eccoci eccoci qui buonasera a tutti buonasera agli iscritti all'associazione noi italiani o ai sostenitori della medesima quindi ai sostenitori del mio lavoro oggi faremo un paio di dirette consecutive la prima questa per fare un attimo il punto della situazione soprattutto su quello che riguarda l'approvazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione per togliere per far sì che gli stati membri tolgano quelle che sono le restrizioni all'uso di armi fornite all'Ucraina per fare in modo che l'Ucraina possa utilizzarle direttamente in territorio russo quindi una sorta di atto di guerra dell'unione europea contro la federazione russa o perlomeno è così che lo ha giustamente interpretato Putin perché perché utilizzare questi missili a lungo raggio per colpire la Russia vuol dire avvalersi dell'intelligence e dei satelliti occidentali ossia statunitensi e quindi se eh gli Stati Uniti e la Nato forniscono intelligence satelliti e missili e l'autorizzazione a Kiev per utilizzarli per colpire eh la federazione russa è ovvio che questa è considerata una aggressione da parte della Nato e dei paesi occidentali e ai russi e ovviamente eh nessuno può dire il contrario tant'è vero che Putin ha avvertito con una frase e ha detto ve la leggo ricordatevi cari membri dell'unione europea il tempo di volo di un missile Sarmat fino a Strasburgo è di tre minuti e mezzo e caro Putin a questo punto mi verrebbe da dirti se hai questi tre minuti e mezzo a disposizione perché veramente signori quello che sta facendo l'unione europea è qualcosa di indegno l'Italia come ha votato in questa risoluzione dobbiamo dire che in gran parte eh hanno votato contro però anche qui ci troviamo sempre di fronte a l'ipocrisia del governo italiano perché da una parte vota contro o questa risoluzione ma dall'altra ribadisce il pieno sostegno o all'Ucraina ehm firma la risoluzione che dice che dobbiamo aumentare fino ad un minimo minimo dello 0,25 per cento del PIL italiano per gli aiuti eh all'Ucraina non si oppone fortemente al resto o della del Parlamento e dei leader europei che invece vogliono che le nostre armi vengano utilizzate in territorio russo quindi è come al solito un voto contrario per dare un colpo alla alla botte come si dice non mi ricordo comunque per tenere due piedi in una scarpa sono stati infatti 619 gli erodeputati chiamati a votare sullo stop alle restrizioni all'uso delle armi dell'Unione europea da parte di Kiev e sono stati ben 425 i voti a favore di questo testo complessivo oh questo è veramente inaccettabile vuol dire che noi abbiamo in Unione europea anche al Parlamento europeo gente che vuole portarci al conflitto con la Russia e ve ne dico una eh clamorosa carola racchete ve la ricordate carola racchete la tipa con eh i dread quella che si batteva per i diritti dei dei clandestini che dovevano a qualsiasi costo poter sbarcare nei porti italiani anche andando contro quella che era la nostra sovranità bene lei che è attentissima a quelli che sono oh i diritti dei clandestini però oh a quanto pare ha votato oh per togliere le restrizioni all'invio di armi eh all'utilizzo delle armi ucraine in Russia quindi non si preoccupa a quanto pare della possibilità di un conflitto mondiale andiamo a leggere cosa recita infatti questo punto otto del del testo quello che riguarda proprio la questione dell'autorizzazione a Kiev per utilizzare le nostre armi in Russia allora il Parlamento invita gli stati membri a revocare immediatamente le restrizioni all'uso dei sistemi d'arma occidentali forniti all'Ucraina eh contro legittimi obiettivi militari sul territorio russo in quanto ciò ostacola la capacità di Kiev di esercitare pienamente il suo diritto all'autodifesa e ovviamente come vi dicevo Putin ha replicato dicendo tutto ciò conduce verso una guerra mondiale con armi nucleari è giusto che voi lo sappiate poi ha aggiunto la frase eh sul missile che potrebbe colpire dalla Russia a Strasburgo in tre minuti e mezzo quindi questa è la situazione eh gli italiani come al solito hanno finto di votare di no ma eh la finta delle votazioni italiane non l'abbiamo visto nel caso della Meloni con l'underline ora voi pensate davvero dopo che è stato dato ufficialmente un incarico prestigiosissimo a fitto come richiesto dalla Meloni addirittura vicepresidente con delle deleghe eh importantissime vicepresidente alla Commissione Europea con deleghe importanti con un eh portafoglio importante secondo voi tutto questo la von der Leyen lo avrebbe concesso alla Meloni se avesse percepito la Meloni come qualcuno che voleva opporsi alla sua rielezione e allora vedete è la presa per il culo che a me dà fastidio poi ovvio che è meglio avere fitto probabilmente che che un altro o di un altro paese già di per sé ostile all'Italia anche se io l'ho detto la volta scorsa e lo ripeto pare che quando un italiano vada a ricoprire incarichi di prestigio in Europa lo abbiamo visto con Gentiloni lo abbiamo visto con Draghi pare che si accaniscano in maniera particolare contro il nostro paese però detto questo quello che dà fastidio è la presa per i fondelli è ovvio che la von der Leyen non ha mai percepito la Meloni come qualcuno che avrebbe votato contro perché si opponeva alla sua rielezione semplicemente le due si sono seduti a tavolino la Meloni avrà assicurato alla von der Leyen che se non avesse avuto i numeri per essere rieletta lei avrebbe dato l'appoggio sicuramente ma qualora quei numeri la von der Leyen li aveva già di per sé era meglio per entrambe fingere che la Meloni avrebbe votato contro o che si fosse astenuta perché perché il voto della Meloni per la von der Leyen avrebbe creato problemi alla Meloni a destra in Italia avrebbe creato problemi alla von der Leyen a sinistra in Europa perché avrebbero detto che era stata eletta con i voti di una sovranista di un anti-europeista figuriamoci la Meloni anti-europeista ormai fa quasi ridere soltanto a dirlo però questo è stato e la prova del nove l'abbiamo avuta perché se avesse fatto la Meloni reale opposizione ovviamente non avrebbe avuto la von der Leyen che si metteva contro i socialisti liberali e chiunque pur di dare affitto l'incarico stabilito insieme alla nostra Presidente del Consiglio quindi come vedete poi le maschere cadono ovviamente questo non è visibile a tutti gli italiani questi meccanismi vanno in qualche modo spiegati e qui abbiamo la stessa cosa quindi una parte eh degli italiani hanno finto di votare no ma per una questione di opinione pubblica per tenere l'opinione pubblica perché a noi italiani figurati se vogliamo che le nostre armi mandate con i nostri soldi possano servire per rischiare di portarci in un conflitto mondiale è ovvio quindi per tenere a bata l'opinione pubblica dicono ok devono votare in 619 425 voti già li abbiamo cari italiani fate finta di votare di no su questo particolare punto però poi votate tutti i compatti di sì agli aiuti militari a Kiev agli aiuti economici all'aumento fino allo zero fino a un minimo dello 0,25 per cento del PIL di aiuti ehm all'Ucraina e quindi anche qui il gioco delle tre carte in tutto questo Zelensky il 26 sarà di nuovo alla Casa Bianca per insistere con gli Stati Uniti che come sapete non hanno dato ancora l'approvazione all'utilizzo dei loro missili perché e qui è uscita anche la rivelazione eh degli inglesi perché è vero che quei missili non possono servire agli ucraini senza eh gli apparati di intelligence e eh satellitari eh da parte dell'Occidente quindi degli Stati Uniti l'hanno detto chiaramente gli inglesi ed è esattamente quello che sosteneva Putin Putin dice ha detto chiaramente nel discorso che ho pubblicato ovunque ha detto cari mie il problema non è fornire i missili per attaccare in territorio russo perché quello lo sta già facendo l'Ucraina il problema è che permettere di colpire così in profondità nel territorio della federazione russa vuol dire che stanno usando intelligence e ehm satelliti occidentali e quindi la guerra a quel punto si allarga a sconto tra la Nato contro la Russia e questo lo ha confermato l'Inghilterra lo ha confermato gli Stati Uniti motivo per cui ha ritenuto poco utile fornire quei missili e senza dare eh cioè dare l'autorizzazione eh per quei missili perché eh avrebbero allargato semplicemente il conflitto ma eh Zelensky insisterà perché come sapete eh il cocainomene vuole portarci nel eh conflitto globale quindi adesso il 26 vedrà quel rimambito di Biden e sperando che Biden non lo scambi un'altra volta per Putin e proverà a convincerlo tanto noi sappiamo che in caso di elezione di Kamala Harris con ogni probabilità si andrà proprio in questa direzione lo abbiamo visto perché eh i famosi neocon oppure invertiamo la frase i neocon più famosi di quella di quel cartello o di guerra fondai hanno deciso o come Dick Cheney di dare ufficialmente l'appoggio a Kamala Harris e loro sono quelli che stanno spingendo o nel deep state americano per un conflitto allargato sono quelli che hanno redatto tempo fa il rebuilding American defense rilanciare la leadership americana nel mondo attraverso la guerra quindi sono o stanno andando esattamente in quella direzione eh peggio eh è la situazione in Medio Oriente dove Nasrallah il carismatico leader degli Esbollah il movimento sciita filo iraniano o quello per intenderci che controlla il Libano ha dichiarato che quello di Israele eh è stato un atto di guerra facendo riferimento ai dispositivi elettronici eh prima i m cerca persone e poi i walkie talkie che l'intelligenza israeliana è riuscita a far esplodere in migliaia ora quello è un atto vile ed è un atto terroristico a tutti gli effetti portato avanti da Israele perché perché non sta colpendo semplicemente i suoi nemici l'idea di Israele era quella di fare cinquemila morti quello che sta emergendo ce ne sono stati per fortuna molti di meno ma l'idea di Israele era fare cinquemila morti fortunatamente la cosa non è andata così come eh doveva andare ma dovevano morire tutte e cinquemila persone che avevano questi dispositivi addosso o che erano nelle immediate vicinanze eh dei dispositivi il che vuol dire chiunque vuol dire che dovevano morire quelli che erano al mercato quelli che erano o in ospedale col dispositivo quelli che erano o in un luogo pubblico chiunque nelle vicinanze di quei dispositivi quindi non solo i miliziani oggetto dell'attacco o dei eh dell'intelligence israeliana ehm questo ovviamente darà vita ad una escalation Nasrallah ha fatto un vero e proprio appello ad i suoi ad iniziare a pensare ad uno scontro diretto ormai inevitabile con Israele uno scronto che poi trascinerà a quel punto anche l'Iran quindi le cose si stanno mettendo veramente male per il momento una cosa è certa eh Netanyahu ha interesse a riportare a nord di Israele tutti eh gli israeliani che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni sono migliaia ma su questo o gli esbolla sono stati chiari mai noi dal sud del Libano permetteremo o a Netanyahu di riportare eh in ehm quelle case i cittadini israeliani quindi questo è il primo braccio di ferro è la prima cosa che Nasrallah e gli esbolla hanno promesso mai più permetteranno agli israeliani di tornare eh a casa per quanto riguarda eh la preparazione di questo vile atto terroristico qui anche cadono moltissime maschere se noi eh questo eh attacco lo andiamo a leggere sotto la giusta chiave di lettura perché perché adesso si comincia a sapere che questi walkie talkie e questi cerca persone erano stati infiltrati e manomessi per inserire all'interno questo oh esplosivo molti ma molti mesi prima del 7 ottobre quindi non è avvenuto adesso quindi Israele non può dire noi abbiamo subito il 7 ottobre ci siamo difesi gli esbolla ci hanno attaccato e quindi abbiamo pensato ad ogni metodo per colpire gli esbolla ora sappiamo che prima del 7 ottobre sono stati manipolati questi dispositivi ed inserito oh il l'esplosivo quindi questo che cosa vuol dire che l'intelligenza israeliana sapeva che ci sarebbe stato un 7 ottobre un caso sbelli sapeva quale sarebbe stata la reazione eh di Israele di guerra totale di genocidio a Gaza il che vuol dire che si aspettava ovviamente una ehm operazione in difesa di Gaza da parte di esbolla e aveva trovato il modo per disattivarli per colpirli questo è gravissimo quello che sta emergendo ma nessuno lo mette sotto questo punto di vista oggi io se apro i giornali lo scrivono ecco qui ce l'ho qui la trappola dei volchi tochi avviata dal Mossad molti anni fa molti anni fa quindi non c'entra niente col 7 ottobre ma per avviare una cosa del genere si capisce che tu sapevi o avresti indotto un 7 ottobre un caso sbelli avresti avuto una reazione talmente esagerata a Gaza che avresti costretto gli atti ad intervenire e intanto avevi già messo in essere delle azioni per disattivare quei miliziani che si sarebbero rivolti contro Israele per proteggere Gaza quindi questa è un'altra cosa di una gravità eh inaudita io vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo ora sono le diciassette datemi un quarto d'ora eh di pausa per organizzare l'altra diretta ehm l'ultima volta abbiamo parlato della mia inchiesta il Diego rivoluzionario e vi avevo detto che c'era un episodio all'interno o del libro che riguarda una sorta di storia d'amore nata tra una delle principali giornaliste eh dell'emittente eh ABC americana quindi una delle emittenti più famose mandate a Cuba per un reportaggio contro Fidel Castro che si innamora proprio di Fidel Castro una sorta di Romeo e Giulietta in chiave guerra fredda eh quella storia è abbastanza sconosciuta anche se è emersa ehm con tutta la documentazione dagli ultimi documenti declassificati io l'ho inserita nel libro ma è una storia importante che voglio raccontarvi dandovi qualche dettaglio e mettendo nel gruppo anche qualche immagine perché perché anche lì si capisce che c'era stato un tentativo di Cuba e del presidente Kennedy di porre fine all'embargo su Cuba di trovare un accordo e anche in quel caso ci fu la ferma opposizione della CIA e degli apparati americani quindi ve lo racconto attraverso quella storia ci vediamo tra un quarto d'ora in diretta sempre qui nel canale Telegram dedicato agli iscritti o ai sostenitori dell'associazione Noi Italiani come fare per dare questo sostegno che poi è un sostegno di venti euro all'anno stiamo parlando di un caffè al mese pensate che io anche oggi qui ho tre quotidiani vedete per fare queste dirette a me servono tre quotidiani al giorno perché devo smentire tutte le balle che dicono e raccontarvi la verità tre quotidiani al giorno ho calcolato che mi costano quasi oltre 1500 euro all'anno a voi chiedo 20 euro all'anno quindi è un rimborso di quello che io acquisto durante l'anno ehm detto questo chi vuole partecipare alla prossima diretta può scrivermi via whatsapp qualora non fosse già interno al gruppo perché può essere questo video gira anche all'esterno tre sei sei otto sette sette otto cinque uno cinque mi mandate il whatsapp e vi dico come poter dare questo sostegno di venti euro all'anno una tanto ragazzi meno di così ci vediamo dopo e vi racconto la storia di Lisa Howard e Fidel saluto Antonio saluto Grud Lucia Merci Pagano Iris Giovanni e Maria Teresa Fausto Morelli Imara Roberto siete tanti stiamo crescendo avete visto nel gruppo o cresciamo sempre di più stiamo creando veramente una comunità di persone consapevoli che amano condividere informazioni grazie a tutti ci vediamo tra poco tra poco tra poco